Dopo la quotazione in borsa arriva anche l'apertura della prima filiale all'estero per il gruppo Arras. Una buona notizia per l'immobilare che mostra segnali di fiducia per il futuro. Enrico Arras è CEO dell'omonimo gruppo. Ci può parlare di questa nuova avventura Svizzera, forse la prima di una serie. Buongiorno a tutti, sì come preannunciato l'azienda Arras Group ha inaugurato la sede di Nechatel, prima sede internazionale fuori dall'Italia. Diciamo che uno dei presupposti di Arras Group che è stato appunto quello di aprire la sede in Svizzera è che oggi la Svizzera rappresenta il 16% della nostra clientela, quindi il mercato svizzero per Arras Group è molto interessante, uno per reddito pro capite ma anche per la risposta che riceviamo da questo mercato che comunque continua ad essere interessato ai nostri immobili e a ricercare una casa a vista mare. Attualmente la presenza su Nechatel ci porterà ad avere comunque una crescita maggiore dei nostri clienti e comunque presumibilmente ad aumentare i fatturati. Diciamo che secondo la nostra analisi di mercato lo Svizzero in sé preferisce toccare con mano la casa e conoscere direttamente chi ha davanti come società. Noi ad oggi grazie alla nostra metodologia, al nostro processo tecnologico siamo riusciti comunque a chiudere una buona percentuale di vendita ma con l'apertura appunto di uno showroom fisico dove verrà presenzato dal nostro sales direttamente sul posto che comunque parlerà sia tedesco, francese ma anche italiano e inglese sarà un quid in più per Arras Group per raggiungere degli obiettivi strategici e di budget che ci siamo dati per il 2024. La situazione di mercato attualmente è una devo dire che è in notevole crescita. Tengo sempre a ribadire che comunque la società si vende seconde case ma seconde case di segmento medio alto quindi segmento lusso. Ormai la clientela di Arras Group mese dopo mese sta diventando sempre più internazionale e con una cura e una ricerca del dettaglio soprattutto dal punto di vista immobiliare che da quello che noi abbiamo potuto constatare riusciamo a colmarla non al 100% ma per buona parte delle esigenze dei nostri clienti quindi prevediamo una crescita di vendite rispetto all'anno precedente al 2023 abbastanza notevole. Facciamo il punto riguardo al mercato. Dal vostro osservatorio che cosa state avvertendo? Nuove tendenze, nuovi flussi di investimenti e quali sono le richieste da parte degli investitori, i vostri clienti? Relativamente al mercato visto in generale in Italia, noi come avrete visto sostanzialmente dalle nostre campagne promozionali attualmente siamo presenti in Sardegna, Sicilia e Puglia che definiamo comunque un po' il fiore all'occhiello dell'Italia e con la presenza ancora di tanti terreni e di tanti anni dove poter fare sviluppo. Attualmente il mercato lo vediamo molto in crescita, infatti paradossalmente rispetto all'anno precedente le richieste si concentrano su un target più alto mentre l'anno scorso avevamo richieste che arrivavano mediamente attorno alle 250-300 mila euro quest'anno abbiamo quasi raddoppiato il budget, per assurdo abbiamo richieste che si aggirano di più attorno al mezzo milione, alle 600 mila euro con comunque con una richiesta di spazi abitativi più grandi, quindi ciò significa che comunque il mercato del lusso è comunque un segmento di determinato livello si sta guardando attorno e soprattutto sta puntando ad un mercato nuovo che è la seconda casa che sino a qualche anno fa non veniva visto come un bene di lusso al di fuori di alcuni mercati che erano quelli di nicchia come poteva essere ad esempio Portocervo o Sardegna ma un po' attorno in tutta l'isola ma allo stesso che sta succedendo anche in Sicilia e in Puglia, quindi spazi abitativi più ampi, standard costruttivi più elevati e soprattutto vicinanza a servizi come porti, aeroporti ma servizi proprio essenziali quali supermercati, ristoranti e bar aperti 365 giorni l'anno. Attualmente stiamo cercando di rispondere bene a questa domanda del mercato e sinceramente le risposte stanno arrivando. In questo contesto positivo quali sono le prospettive? Cosa prevedete possa accadere nei prossimi anni? Le prospettive come società innanzitutto per il 2024 sono quelle di completare i cantieri che sono già in essere quindi andare in consegna con oltre 50 unità abitative come avevamo previsto appunto dall'ultimo comunicato stampa effettuato agli azionisti qualche settimana fa. Ovviamente concentrarci su completare le vendite dei cantieri in pipeline e avviare tutte le strategie di vendita, di completamento ma anche di consegna previste da qua fino al completamento del piano industriale. Inoltre volevo lasciarvi due numeri che sono quelli che hanno rappresentato l'azienda soprattutto post quotazione quindi dopo il 4 di luglio 2023. Abbiamo aggiunto alla pipeline sette iniziative immobiliari quindi siamo un totale di 16 attualmente di iniziative immobiliari che sono i pipeline che sono state avviate. Abbiamo costituito tre nuovi veicoli per un totale appunto di 14 e abbiamo una pipeline totale di 92 unità abitative che rappresentano 28 unità abitative in più rispetto a quanto previsto nel piano industriale appunto presentato in serie di IPO. Attualmente abbiamo firmato al 31-12-2023 67 preliminari per un volume complessivo da fare di 20,2 milioni di euro. L'obiettivo per il 2024 è quello di nettamente superare questi numeri, di essere presenti in altre regioni d'Italia ma anche all'estero così come appunto promesso ai nostri azionisti ai quali dobbiamo comunque rappresentare e dare una risposta valida e concreta rispetto a quello che abbiamo promesso e che manterremo per il 2024.